Venerdì 2 febbraio a Palazzo Esimbardi, la città metropolitana di Milano ha organizzato il secondo appuntamento della rassegna Girasoli per alzare il velo sul mondo carcerario. Questo è un progetto importante perché vede intanto città metropolitana la regia di un percorso che va proprio incontro alla possibilità di dare opportunità di riscatto a chi è in un istituto penitenziario. Lo facciamo attraverso il cibo che peraltro per noi, che abbiamo anche la competenza sulla formazione e l'orientamento, è uno dei settori proprio lavorativi sui quali ci impegniamo come formazione. Il ristorante in galera è un esempio non solamente di inserimento lavorativo ma di alta formazione professionale ed è stato e continua a essere uno dei tasselli di collegamento con la comunità esterna. E questo per noi è un grande elemento di soddisfazione, nello stesso tempo anche nel cercare di avere delle forme particolari di collaborazione come quella che oggi celebriamo col carcere di Bollate che diventa una possibilità ulteriore di aprire un'esperienza alla società rispetto al lavoro che i ragazzi vanno a effettuare, in questo caso legato da un lato alla parte agricola per quanto riguarda la coltivazione, ma alla trasformazione di questi prodotti che poi possono essere offerti ai cittadini.